Al fianco di Giulia De Nunes, nei panni di Brigitte Bardot, nella nuova serie TV di Canale 5, Bardot, che dubutta stasera in TV, troviamo anche Victor Belmondo, nelle vesti di Roger Vadim il primo marito dell'attrice che l'ha scoperta e lanciata. Figlio d'arte, da tre generazioni, scopriamo qualcosa in più sull'attore. Figlio dell'ex pilota automobilistico Paul Belmondo e della presentatrice televisiva Luana Tenka, Victor è nato il 15 dicembre 1993, a trent'anni, a Parigi ma è cresciuto Vaucresson, un piccolo villaggio a ovest della capitale, assieme ai suoi due fratelli Alessandro e Giacom. Nipote del celebre Jean-Paul Belmondo, Victor è l'unico tra figli e nipoti del grande Belmondo ad aver intrapreso la strada del cinema. Fin dalla scuola elementare, ho iniziato a fare chiasso tutto il giorno, e non necessariamente a divertire il pubblico, dal momento che a volte ero l'unico spettatore dei miei numeri, ha raccontato a Liberation in un ritratto a lui dedicato nel 2019. G-Study Così debutta nel 2004 quando aveva solo undici anni cortometraggio a Carnes di Regis Mardon. Maguai a chiamarlo raccomandato, all'età di sedici anni ha cominciato a lavorare per potersi mantenere. Mio padre mi consigliò di imparare altri mestieri in parallelo, di avere diverse frecce al mio arco. Mi ha detto che la carriera di un attore era troppo casuale, ha spiegato in un'intervista di qualche anno fa a version femmina Victor studia all'Ecole Supérieure de Tudes Cinematographiques, ottenendo un diploma in regia, e poi segue le lezioni di arte drammatica ai corsi di teatro di Peyran Lacroix. Assistente regista nella messa in scena teatrale di Ghost Light, ha esperienze anche come attore sul palcoscenico di Les Coutos Dans les Dos. La carriera A cavallo tra il 2017 e il 2020, dopo aver fatto parte del cast di La Vie 3 Sprivede Monsieur Sim di Michelle Leclerc, appare in altri titoli per il grande schermo, Vuetes Jeunes Vuetes Bo, Selfie di famiglia, 2019, la commedia all inclusive, il thriller versus, il biopic de Gaulle, 2020, con Lambert Wilson, Isabelle Carré e Olivier Gourmet. Con pazienza e con tenacia nel 2021 arriva il ruolo di protagonista in Volami Via, dove recita accanto a Johan e Laundu e Gerard Lanvin, in il drammatico Albatros. È la svolta che gli apre le porte del mondo dello streaming, nella nuova miniserie Notre Dame, la parte du feu, un dramma Netflix, in onda dal 19 ottobre, che ricostruisce le drammatiche ore dei vigili del fuoco nell'incendio che ha devastato la cattedrale parigina nell'aprile 2019 e lo consacra a nuovo sex symbol di Francia. Ora da stasera lo vedremo nei panni di Roger Vadim, primo marito di Brigitte Bardot, nella serie tv di Canale 5.